Apple si appresta a chiudere il 2013 con il lancio dei nuovi iPad, dopo le innumerevoli indiscrezioni che circolano da tempo in rete, il momento dei nuovi tablet potrebbe essere effettivamente arrivato. In questi giorni il Colosso di Cupertino ha infatti spedito alla stampa un invito per un evento speciale. Un invito accompagnato dal messaggio We still have a lot to cover, abbiamo ancora molto da realizzare. L'evento è previsto per il 22 ottobre a San Francisco anche se non si sa molto di più sulla sede scelta. I nuovi tablet, secondo Rumors, saranno più leggeri e con processori più potenti, pronti per dare del filo da torcere a big del calibro di Amazon e Samsung. A settembre Apple aveva lanciato due nuovi iPhone 5S e 5C che saranno disponibili in Italia a partire dal prossimo 25 ottobre.